Alberi pericolanti, rami caduti sulla sede stradale, calcinazzi oggetti vari volati dai balconi, insegne traballanti, bidoni dei rifiuti sparsi, difficoltà per i pedoni nel camminare. Anche la città di Salerno questa mattina si è svegliata sotto le sferzate di un vento artico che già dalla notte ha fatto sentire la sua forza. Le temperature che facevano pensare ad un arrivo anticipato della primavera hanno subito riportato tutti in un rigido inverno. Fiocchi di neve dalle prime ore della mattinata nelle zone collinari con un po' di nevischio anche in città Salerno poco prima delle nove. Le raffiche di vento hanno fatto comunque stragi di alberi. Intorno alle sette è il crollo di un albero in via degli Etruschi in prossimità della villa archeologica di Fratte che ha completamente ostruito la strada rendendo necessaria la temporanea chiusura. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri, vigili urbani nonché una squadra del verde pubblico del comune di Salerno. Sulla tratta della Lungo Irno, la strada che costeggia la cittadella giudiziaria, diverse lamiere di recensione sono invece finite sulle auto in sosta che sono rimaste in parte danneggiate. E' andata peggio invece alle vetture in sosta nella zona di Torrione, in via Antonio Parisi dove ancora una volta si registra non solo il crollo degli alberi ma questa volta anche di un palo della luce. Un tronco ha letteralmente sfondato un'auto parcheggiata danneggiandone anche altre per fortuna senza provocare danni a persone. Anche in questo caso sono intervenuti i vigili urbani e gli addetti alla manutenzione del comune che hanno provveduto alle operazioni di taglio degli alberi e a mettere in sicurezza la zona facendo rimuovere tutto ciò che ostruiva il passaggio delle auto. Diverse le zone della città che hanno registrato danni. Anche in via Ugo Fosco la pasta ne è venuto giunta a Belone Pubblicitario mentre nella zona dello stadio Vestuti, in via Nicola Giacumbi, un altro albero è finito sulla sede stradale limitando il transito delle auto in carreggiata. La colonnina di Mercurio da ieri sera è dunque andata nuovamente impicchiata. Il brusco peggioramento di area fredda in arrivo dalla Russia ha toccato anche la provincia di Salerno ma i meteorologi hanno assicurato che i primi miglioramenti dovrebbero aversi già a partire dalla giornata di domani.